Benvenuti a questo incontro dedicato alla gestione del denaro. Sono Giuseppe Santoro, infinico, mi occupo da diversi anni di formazione. Allora, oggi parliamo di gestione dei risparmi facendo una premessa doverosa. Il rapporto con il denaro per molti di noi è un aspetto un po' controverso. Alcuni pensano che il denaro si debba solamente accumulare, altri pensano di saperlo gestire, ma pochi di noi hanno la consapevolezza che, come per gli altri aspetti importanti della vita, come ad esempio la salute, è necessario conoscere alcuni concetti base in modo da non commettere errori, soprattutto oggi che il mondo della finanza e del risparmio sono estremamente evoluti. Da qui la necessità di avere delle basi per poter affrontare la complessità dei mercati finanziari in modo consapevole. Ecco, l'obiettivo di questo intervento è proprio questo, dare alcuni suggerimenti pratici per riflettere su cosa serve il denaro che accumuliamo e come gestirlo in modo adeguato. Ecco i temi che andremo a trattare. Allora, parleremo di metodo, parleremo quindi dell'approccio che ci aiuta a capire a cosa ci serve il denaro in modo strategico, cioè con una visione di lungo periodo. Gli addetti ai lavori parlano di pianificazione finanziaria, ma in fondo sarebbe più comprensibile semplicemente è più semplice parlare di cura, cura sia di sé ma anche dei propri cari, attraverso la cura dei propri risparmi, se ci sono naturalmente, e più in generale delle proprie entrate. E attenzione, paradossalmente, ma è facile anche intuirlo, più le entrate e i risparmi sono limitati e più cura bisogna averne. Analizzeremo quindi i passaggi di questa pianificazione finanziaria, che sono identificazione delle esigenze reali, trasformazione di queste esigenze in obiettivi finanziari. Poi parleremo di orizzonte temporale, che non è unico ma si riferisce a singoli obiettivi. Poi parleremo di un altro aspetto fondamentale, il profilo di rischio, che è una sorta di autovalutazione emotiva per capire come sentirci nel momento in cui ho messo i miei soldi su mercati che possono essere più o meno rischiosi. Infine, la scelta degli strumenti finanziari che il mercato mette a disposizione. Fondamentale è che questa scelta deve essere coerente rispetto a tutti i passaggi della pianificazione finanziaria. Bene, allora, ecco qua, voi nella slide vedete subito visualizzato il metodo della pianificazione finanziaria, in un percorso a tappe, che ci aiuta a risparmiare correttamente e investire con metodo. Sono delle tappe che bisogna seguire in modo coerente, non si può passare subito alla scelta degli strumenti senza aver fatto le tappe precedenti perché si rischierebbe di sbagliare proprio lo strumento finanziario poi da utilizzare per i nostri investimenti. Cominciamo il percorso della pianificazione finanziaria che, come detto, ha l'obiettivo di ricercare la coerenza tra le esigenze personali da un lato e la struttura del patrimonio per soddisfare quelle esigenze. Ed ecco, iniziamo con la prima tappa. Parliamo quindi di esigenze reali. Cosa sono le esigenze reali? Approfondiamo un po'. Abbiamo detto che la corretta gestione del denaro deve essere fatta con un metodo che chiamiamo appunto pianificazione finanziaria. L'utilizzo di questo metodo della pianificazione ci aiuta a definire gli obiettivi di vita e cercare di individuare gli strumenti per raggiungerli. Se però rimanessi a questo livello resteremo un po' troppo teorici. Ad esempio, vi descrivo, giusto per essere concreti, i miei obiettivi personali. Beh, innanzitutto il mio primo obiettivo è colmare il mio gap previdenziale. Un secondo obiettivo può essere un'istruzione di qualità per mia figlia Giulia. Chi tra di voi non ha figli, oppure se siete dei zii o dei nonni. Mi capirà sicuramente quanto sia importante pensare per tempo al percorso scolastico dei propri cari. E della nostra famiglia è stato importante sapere che nostra figlia potrà frequentare l'università che vorrà, in base alle sue ispirazioni, oppure che potremo sostenerla per avviare magari una sua attività professionale ed è stato importante averlo pianificato diversi anni fa. Quindi c'è già accumulato per questa sua aspirazione, sia di studio che di attività professionale. In realtà vi posso già dire che è di studio, quindi andrà a fare l'università, ma diciamo che il finanziamento, diciamo, le sostanze, la provvista in termini molto bancari per far conseguire una laurea anche in un istituto, anche in una facoltà, in un'università importante, è già stata costruita per tempo attraverso gli investimenti giusti. E poi, ma non per importanza, c'è, ci possono essere anche altre esigenze da dover soddisfare, esempio l'acquisto della propria prima casa, oppure il suo ampliamento, perché incominciano a nascere anche i bimbi, oppure magari essere in un momento in cui si vuole aiutare uno dei figli ad acquistare la sua casa. Ecco, queste sono tutte esigenze che guidano, devono guidare il nostro percorso di pianificazione finanziaria. Ecco, è fondamentale fermarsi e ragionare realmente su come ci immaginiamo il nostro futuro. Cosa veramente ci manca e cosa vogliamo raggiungere. Approfondiamo ulteriormente questa tematica delle esigenze reali. Allora, se chiedessi ad un trentenne di riflettere sulle esigenze di vita, mi direbbe quasi sicuramente cose diverse rispetto a un cinquantenne, poiché il primo, cioè il trentenne, è in piena fase di accumulo, con uno spettro di esigenze che va dal lato nuovo alle vacanze, alla possibilità di comprarsi una casa per diventare indipendenti. Il cinquantenne invece è in una fase che definiamo di conservazione, tale per cui ha come obiettivi solitamente lo studio dei figli, piuttosto che una casa magari sempre per i figli, oppure una casa più grande per se stesso. Tutto corretto e tutto vero. Ma in realtà molto spesso si ragiona con una certa miopia, pensando che gli obiettivi di vita siano quelli di cui si ha immediata percezione. E c'è difficile proiettarci in un periodo molto più lontano da quello che stiamo vivendo in questo momento. Sembra strano a dirlo, ma sia per il trentenne che per il cinquantenne uno dei veri obiettivi di vita è quello poi di mantenere un livello di benessere una volta andati in pensione. Allora, il consiglio per riuscire ad individuare con più lungibilanza i propri obiettivi è quello, per esempio, di guardare gli stili di vita e le necessità delle persone più anziane vicino a noi. Beh, prima di tutto i genitori, se si ha ancora la fortuna di averli. E quindi, ad esempio, è fondamentale ritrovarsi un reddito che permetta le cure migliori, l'assistenza più adeguata. In poche parole, poter vivere bene la fase post lavorativa. Ok? Quindi esigenze, mi raccomando, è vero, ognuno ha la propria percezione, ma non dobbiamo essere miopi. Guardiamo sempre a livello di medio-lungo periodo e in questo caso ci può essere veramente di aiuto osservare chi ci sta vicino ed è più avanti di noi nel suo percorso di vita. Passiamo ora ad un altro aspetto importante dell'analisi delle esigenze. Allora, abbiamo detto che ognuno di noi può avere tanti sogni o meglio, tante esigenze da soddisfare, ma è altrettanto importante dare a questi sogni una priorità. Senza questo criterio, cioè il criterio di priorità, c'è il rischio di disperdere le forze economiche e mentali, inseguendo qualcosa che poi in realtà non era sicuramente il primo posto della nostra lista. Quindi individuarle è già un passo importante. Oltre ad averle individuate è altrettanto importante dare una priorità, un ordine, in modo tale da sapere quante energie fisiche, economiche, mentali dobbiamo dedicare correttamente a quella che abbiamo messo in prima alla nostra lista e di conseguenza a tutte le altre. Bene, definite un po' le esigenze reali, passiamo ora allo step successivo. Gli obiettivi finanziari. È fondamentale pensare che le risorse a disposizione servano a soddisfare le proprie esigenze e quindi bisogna trattare il patrimonio non come un unicum indistinto, ma spezzettarlo e dedicare ogni parte di questo ad un progetto di vita. Il raggiungimento di ciascun obiettivo deve essere considerato una storia sempre. E vediamo come, facendo esempi pratici e mettendo dei numeri vicino. Prendiamo il caso di un padre di famiglia tipo. Avrà sicuramente il desiderio di cominciare a costruirsi una pensione integrativa per mantenere il proprio livello di benessere anche quando sarà andato appunto in pensione. E poniamo questo obiettivo per esempio a 300 mila euro. Poi ad esempio vorrà dare tra un po' di anni un'istruzione di qualità ai figli e quindi poniamo come obiettivo finanziario anche qui 100 mila euro. E poi infine aiutare i figli per l'acquisto almeno parziali di una casa e quindi altri 100 mila euro. Sono tre obiettivi completamente diversi e quindi implicano una pianificazione diversa per raggiungerli. Poiché ci sarà da verificare il preciso orizzonte temporale del singolo investimento, il rischio che voglio prendere. E qui entrano un po' in ballo le emozioni e lo strumento finanziario più adeguato. Bene, continuiamo con il nostro percorso e analizziamo ora altri due concetti basilari a cui abbiamo solo accennato un attimo fa. Orizzonte temporale e profilo di rischio. Partiamo dal primo. È importante definire l'orizzonte temporale di un obiettivo in modo da sapere quanto tempo ho a disposizione per raggiungerlo. Con la consapevolezza, attenzione, che più è ampio o lungo e più ci permette di guardare al futuro con serenità per poterlo poi raggiungere. In merito all'importanza di avere un orizzonte temporale medio-lungo, potremmo mostrare qualsiasi grafico di indici azionari e dimostreremmo che investire in modo diversificato può consentire di ottenere rendimenti importanti. Però più interessante, secondo me, è mostrare questa tabella. I numeri di questa tabella dimostrano che dopo i cinque peggiori tonfi di borsa, perdonatemi il termine non molto tecnico, però giusto per intenderci, tecnicamente si chiama drawdown, tonfi di borsa. In realtà il mercato azionario di tutto il mondo, rappresentato per esempio dall'indice Morgan Stanley Capital Investment All Country World, più comunemente conosciuto come SSI World, si è ripreso e dopo cinque anni i rendimenti medianui sono sempre positivi. Però ci sono situazioni in cui il crollo ha determinato una perdita di oltre il 50% del capitale. Vi ricordate che nella slide prima parlavamo di emozioni? Per capirci, ci sarà certamente qualcuno che è entrato sul mercato sul mercato il giorno prima che è iniziato un crollo. Immaginiamo come ci si possa sentire. Abbiamo il nostro risparmiatore, prende il suo risparmio e finalmente decide di investirlo su uno strumento molto diversificato e ecco, il mercato crolla. Insieme a lui i suoi soldi nel giro di poco possono anche dimezzarsi. Si è vero, allora mi hanno detto, studiato e so che storicamente se tengo duro e resto fedele ai miei obiettivi potrei recuperare nel medio-lungo termine avere anche accumulato un bel grusolo. Si è vero, più correttamente in passato è stato vero. Eh, se questa volta succedesse qualcosa di diverso, allora potete immaginare come ci sia veramente a volte da essere molto eh spaventati e in tanti per fortuna però non 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 prendono delle eh decisioni eh di conseguenza sbagliate. Però cosa succede? Eh a volte c'è il rischio che qualcun altro esca dal mercato nel momento peggiore per uscire. Allora, rimanendo nell'ambito delle emozioni, giusto per riprendere uno degli esempi personali condivisi prima. Se il mio investimento è finalizzato alla futura casa per esempio di mio figlio, di fronte alle forti variazioni di mercato per esempio ricordiamo tutti quelli di febbraio duemila e venti quando c'è stata la pandemia oppure anche eh più recentemente con la con la guerra in Ucraina. Allora, se guardo solo il mio portafoglio rischio di disinvestire, di uscire sui minimi e perdermi magari il recupero che c'è stato già a partire da qualche mese successivo. Se invece vedo mia figlia e la sua bella casetta proiettando nel futuro l'obiettivo è più facile che rimanga investito e tenga fermi i miei bollori di eh di vendita. Allora, passiamo adesso invece a il secondo concetto di questo passaggio della pianificazione finanziaria, il profilo di rischio, ossia la misura della quantità di rischio che si dovrebbe assumere nei propri investimenti considerando vari fattori come la situazione finanziaria e la propensione alle perdite. Poiché la maggior parte di questi fattori è personale, il profilo di rischio varia da individuo a individuo. Pertanto non avere crisi personali durante le crisi di mercato è fondamentale e per far sì che succeda questo da un lato è importante fissare il tempo che ho a disposizione per raggiungere il mio obiettivo e dall'altro fare una sorta di autodiagnosi sulla sopportazione del rischio di mercato. Aggiungiamo un'altra considerazione un po' per stemperare le emozioni di fronte alle forti oscillazioni di mercato. Allora, i mercati finanziari possono aiutare a raggiungere questi nostri obiettivi anche con le loro, diciamo, oscillazioni. E per fare questo cosa si può fare? Allora, si può investire in due modi. Uno viene definita modalità PIC, cioè è un investimento in un'unica soluzione. Oppure la seconda opzione è in modalità PAC, cioè in modo graduale nel tempo con versamenti ricorrenti. Lasciare invece i propri risparmi su un conto corrente non remunerato li può esporre alla perdita di potere di acquisto. Negli ultimi anni, fino al 2020, caratterizzati anche da una bassa inflazione, la perdita è stata comunque evidente. Se guardiamo questa slide, il 10% in dieci anni, dal 2010 al 2020. Questo è quello che ha perso il denaro lasciandolo fermo nei conti correnti. Nel 2021 e soprattutto nel 2022 l'inflazione in realtà è aumentata molto e a dicembre dell'ultimo anno è arrivata quasi al 12% su base annua. Attualmente stiamo viaggiando intorno al 5%. E quindi, anche se stiamo sicuramente vivendo momenti molto particolari in cui il rialzo dei prezzi è concentrato, diciamo, soprattutto sui beni energetici. Ma consideriamo che il fatto che l'obiettivo delle politiche della Banca Centrale Europea è in ogni caso proiettato a un'inflazione intorno al 2%. Ora, guardiamo insieme anche questa proiezione del futuro. Se guardiamo questo grafico ci accorgiamo immediatamente come tenere i soldi fermi sul conto non remunerato non è proprio un grande affare. Con questi tre scenari il capitale iniziale perderà potere d'acquisto in dieci anni dal meno 10 addirittura al meno 26%. E vedete che qua abbiamo fatto dei scenari che sono ancora ottimistici perché gli ultimi due anni, l'anno scorso abbiamo viaggiato più del 10% e ad oggi, ad agosto, l'inflazione ad oggi è circa il 5%. Quindi vedete che, insomma, anche questi tre scenari che potevano sembrare oltremodo negativi, in realtà sono positive rispetto alla realtà che stiamo vivendo. Allora, dobbiamo dire anche un'altra cosa. Un vantaggio a tenere i soldi in liquidità c'è ed è limitato al fatto che c'è una garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi che appunto garantisce i nostri depositi fino a 100.000 euro. Ma oltre a questo importo subentra poi una normativa sul risanamento degli enti creditizi e quindi non sono più garantiti. I depositi per la parte eccedente, infatti, oltre 100.000 euro potrebbero essere assoggettati al cosiddetto bail-in. E quindi c'è il rischio di entrare nello stato di crisi di una banca. Questo per i beni oltre i 100.000 euro. Ok, detto questo, dopo questo scursus quindi sull'orizzonte temporale, il profilo di rischio e l'inflazione che è il silent killer dei nostri risparmi, torniamo un po' al nostro percorso della pianificazione finanziaria. Allora, per visualizzare e capire meglio i passaggi che stiamo facendo, riprendiamo insieme l'esempio del nostro padre di famiglia tipo. Quindi, abbiamo detto, il primo obiettivo fondamentale, garantirsi una vecchiaia serena in pensione e sappiamo come sarà difficile farlo con la sola pensione INPS. Pertanto, può essere opportuno preoccuparsi per tempo ed aderire alla previdenza complementare, cioè aderire ad un fondo pensione mettendoci per chi può il TFR e versando i contributi magari a cadenza mensile oppure trimestrali per diruire nel tempo l'impegno. Il fondo pensione, avendo un orizzonte temporale lungo, ci permetterà di rivalutare il nostro investimento e darci quindi una rendita, oppure una parte in capitale, che andrà a integrare la nostra pensione INPS. Nel frattempo, per il secondo obiettivo, per poter mandare il figlio all'università, si può cominciare un piano di accumulo in modo da arrivare preparati finanziariamente al momento dell'iscrizione del figlio all'università. E infine, il nostro padre di famiglia, per comprare, scusate mi sono distratto un attimo perché ho visto una domanda, qui voglio rispondere subito, sì, in Fineco è possibile aderire a un fondo pensione. Se uno apre la posizione in Fineco, un conto corrente in Fineco, c'è un'area per evidenza complementare, il prodotto si chiama Core Pension ed è sottoscrivibile direttamente online e alimentabile direttamente dal conto corrente Fineco. Scusate la breve parentesi, ma volevo già rispondere subito al nostro partecipante. Allora, dicevamo, terzo caso, infine il nostro padre di famiglia può comprare una parte della casa per il figlio, oppure può allargare la propria, e dedicherà una parte del patrimonio liquido in un investimento adeguato al suo profilo di rischio e con un orizzonte temporale, magari medio, circa cinque anni. Poi, cosa può succedere? Arrivato alla scadenza, potrebbe aggiungere magari un mutuo, quindi servirsi ancora della banca per un altro tipo di prodotto, appunto per andare a integrare quella parte mancante e quindi raggiungere il suo obiettivo, acquistando la casa dei suoi sogni. Ma veniamo all'ultimo medio del nostro percorso di pianificazione finanziaria, anch'esso importantissimo, cioè la scelta dello strumento più adeguato. Premetto che non esistono strumenti buoni o cattivi in finanza, ma solamente strumenti adeguati o non adeguate al proprio profilo di rischio, al proprio progetto, al proprio obiettivo, al proprio orizzonte temporale. Vediamo un po' di capire insieme un po' questi strumenti che la finanza ci mette a disposizione. Naturalmente analizzeremo quelli più comuni, un pochino quelli più semplici. Non ci possiamo addentrare in meccanismi di ingegneria finanziaria con il poco tempo che abbiamo a disposizione. Allora, esistono diversi strumenti per diversificare, vi ricordate il termine diversificare in finanza è fondamentale, in modo tale da, come si sul dire, utilizzo questa metafora molto bella, non mettere tutte le stesse uova in un unico paniere, immaginate cosa succede se il paniere casca. Quindi diversificare ci aiuta a selezionare tante strategie, tanti strumenti, in modo tale che se anche una dovesse incappare in una crisi, in un default, non metterebbe a repentaglio il nostro intero portafoglio. Quindi esistono diversi strumenti per diversificare e a ciascuno corrisponde un determinato livello di rischio. Possiamo dire che tendenzialmente quando compriamo un'azione sul mercato, e qui entro un po' più nel tecnico di questi strumenti, diventiamo soci di quell'azienda. Chi compra le azioni quindi in caso di fallimento della società emittente, può perdere l'intero capitale investito. Inoltre le azioni emesse da una banca, da un'impresa di investimento, da una società, facendo parte di un gruppo bancario, rappresentano i primi strumenti che possono venire assoggettati al cosiddetto bail-in, in caso in cui appunto la società versi in stato di dissesto. Ora, quando invece compriamo un'obbligazione, oppure un titolo di Stato, di fatto ci limitiamo a prestare dei soldi. Siamo dei creditori di quell'azienda o di quello Stato. Anche in questo caso le obbligazioni sono soggette al rischio di insolvenza dell'emittente e possono essere assoggettate anch'esse al bail-in, nel caso in cui siano emessi dai soggetti sopra menzionati e non siano obbligazioni garantite. Il bail-in trova però applicazione prima per i titoli azionari e poi per quelli obbligazionari. Facciamo un esempio giusto per capirci. Ho comprato le azioni della BCC di Pinco Pallo. Bene, la BCC va a gambe all'aria. Cosa succede con la normativa del bail-in? Che anch'io, correntista o investitore con quella banca, possa rischiare di essere coinvolto in questo dissesto. Prima di tutto tramite le azioni magari che ho comprato dalla BCC. Seconda, in gradutoria come rischio, le obbligazioni che hai messo quelle a BCC e io ho comprato. Terzo step è anche la liquidità, ma qui, come dicevo prima, c'è la tutela per cui fino a centomila euro i miei risparmi liquidi sono salvaguardati. Certo che se in quella BCC che è andata a gambe all'aria ho più di centomila euro, la differenza anch'essa potrebbe essere ricompresa nel fallimento di questa banca. Passiamo ai titoli di Stato, anche se sono obbligazioni messe da uno Stato sovrano e presentano quindi gli stessi rischi già visti per le obbligazioni che abbiamo citato prima. Giusto per citare casi arcinoti, se metto tutti i miei soldi su un'unica azione, esempio Parmarat, e questa fallisce, che fine fanno i miei risparmi? Se ho comprato solo obbligazioni in Lehman Brothers, anche qui, che fine fanno i soldi che ho prestato a Lehman Brothers? Oppure se ho messo tutti i titoli sui titoli di Stato dell'Argentina, avrei ricordato il caso Argentina dei primi anni 2000. Ecco ci siamo capiti, proprio per questo quindi è importante, anzi oserei dire fondamentale, diversificare. Facciamo un breve approfondimento ancora sulle azioni. Allora, vi ho detto che le azioni sono le singole parti unitarie in cui è diviso il capitale della società per azione. Il titolare di un'azione quindi possiede un pezzettino di questa società, con tutti i diritti e gli oneri. Inoltre le azioni possono essere anche quotate, se abbiamo diciamo un mercato in cui andare a vedere ogni giorno il suo prezzo, il loro prezzo, oppure non quotate. Nel primo caso quelle quotate è più facile acquistarle o vendere appunto a un prezzo di mercato che viene visualizzato sui vari listini. Invece le azioni non quotate possono presentare grossi problemi al momento della vendita, ok? Perché magari non c'è la cosiddetta liquidità disponibile da controparte per acquistare queste azioni. Il rischio principale di un'azione quindi è il default dell'emittente e conseguente insolvenza dello stesso. Inoltre, come dicevamo prima, le azioni bancarie sono soggette anche a cosiddetto rischio bail-in. Parliamo ora delle obbligazioni. Le obbligazioni, dette più comunemente bond, sono titoli di debito attraverso il quale gli stati, Italia, Germania, eccetera eccetera, l'Italia con i suoi BTP, la Francia con i suoi OAT, la Germania con il suo Bund, ok? Sono titoli di debito attraverso il quale gli stati appunto oppure le imprese si finanziano. Chi acquista le obbligazioni è come se finanziasse, prestasse i soldi allo Stato o all'impresa che le ha emesse. Questi ovviamente in cambio cosa offrono? Il cosiddetto interesse. Ogni obbligazione poi può avere anche una scadenza, per esempio due, cinque, dieci anni. E più è lontana la scadenza, attenzione, maggiori saranno gli interessi offerti, maggiori saranno anche i rischi. Arrivata a scadenza, l'obbligazione viene poi rimborsata e quindi l'impresa restituisce a chi aveva acquistato l'obbligazione l'intero importo. Ecco, durante il ciclo di vita l'obbligazione poi può distribuire l'interesse attraverso la cedola periodica per un valore pari appunto all'interesse annuale fissato. Esistono poi altri strumenti che hanno già nel proprio DNA il concetto di diversificazione. Allora, prima cosa abbiamo visto? Le singole azioni e le obbligazioni. Come posso fare un portafoglio diversificato? Allora, per esempio, per le azioni incomincio, mi compro l'ENI, mi compro le le intesa, mi compro le Apple, vado sul mercato americano le Apple e via dicendo. Quindi diversifico. Ok? Ci sono degli strumenti, come quelli che adesso andremo a rappresentare, che hanno invece insito nella loro struttura il DNA della diversificazione. E quindi nella nostra slide li abbiamo rappresentati come dei portafogli. Quindi come se fossero già contenenti tante azioni e tante obbligazioni. Sono i cosiddetti fondi comuni di investimento. Sono le SICAV e sono anche gli ETF. L'acronimo di quest'ultimo sta per Exchange Traded Funds. Quindi sono sempre dei fondi che però hanno la possibilità di essere scambiati su un mercato regolamentato quasi come se fossero un'azione. Cosa sono nel dettaglio questi fondi e i SICAV? Allora, o meglio, scusate, cosa sono questi ETF? Sono un particolare tipo di fondo comune che ha come caratteristica però il concetto di gestione è passiva. Ciò significa che il fondo si limita a replicare fedelmente un parametro, chiamatelo un indice, chiamatelo benchmark, ma copia passivamente questo parametro. E questo parametro può essere azionario, obbligazionario oppure monetario. Qual è il vantaggio di questo ETF? Beh, direi principalmente due. Primo, diversificazione ne abbiamo già parlato, ma il secondo è veramente molto molto interessante, che è l'accessibilità. Quindi si possono investire importi anche piccoli, 1000 euro, addirittura anche 100 euro e con un unico strumento, dicevamo, riusciamo a compriare migliaia di azioni, di obbligazioni o di titoli di Stato. Quindi molto molto utili. Poi per completezza nella slide abbiamo anche inserito, oltre all'ITF, il fondo comune e alle SICAV, anche il cosiddetto fondo di fondi. che cos'è? Il fondo di fondi fa un pezzettino in più, perché il singolo fondo, invece di comprare titoli, cioè azioni e obbligazioni, compra a sua volta altri fondi. E quindi qual è la prima, diciamo, grande, il primo grande vantaggio? È quello relativo alla diversificazione e come, passatemi il termine, se si diversificasse al quadrato. Quindi il fondo di fondi ha come caratteristica ancora di più il tema della diversificazione. Entriamo un pochino più nel dettaglio di questi strumenti e vediamo un attimo i fondi. Allora, i fondi comuni di investimento, abbia detto che sono strumenti di investimenti gestiti da una SGR, l'SGR è la Società di Gestione del Risparmio, che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono con un unico patrimonio, in attività finanziaria, quindi azioni, obbligazioni, titoli di Stato, rispettando regole volte a ridurre il rischio. Allora, poi sono suddivisi questi fondi in tante parti d'Italia che vengono definite quote, che vengono sottoscritte dal risparmiatore. E, attenzione, grande evidenza rispetto all'ETF, queste quote sono gestite e affidate a un team di esperti che si chiamano gestori. Ecco perché si parla di fondi, lo vedremo anche poi per le SICAV, si parlerà di gestione attiva, cioè ci sono delle persone che tolgono e inseriscono diversi titoli proprio per dare una gestione attiva per andare a cogliere le migliori opportunità sul mercato. Poi, oltre alla forma appunto del fondo comune, la stessa attività di investimento può essere fatta anche da quella che viene definita società di investimento a capitale variabile, il cui acronimo è SICAV. E poi, come ho detto, gli ETF e come abbiamo detto poc'anzi sono un particolare tipo di fondo comune, però caratterizzati dalla gestione passiva. Ciò significa che il fondo si limita a replicare fedelmente un indice, sia questo sia azionario, obbligazionario o monetario. Parlando di rischi, i rischi principali per questi strumenti sono più legati all'andamento dei mercati, quindi dei titoli sottostanti ai vari ETF, fondi e SICAV. E infine, infine, dato che l'abbiamo anche citato in qualche slide prima, vediamo cosa sono nel dettaglio e quali rischi comportano i fondi pensione. Il fondo pensione è un organismo di investimento collettivo del risparmio che raccoglie i contributi di lavoratori ma anche di non lavoratori e li investe in strumenti finanziari allo scopo poi di erogare una prestazione pensionistica, quindi una rendita o del capitale, al termine della vita lavorativa del lavoratore. Quindi cosa succede in un fondo? Che accumulo, io lavoro e intanto ho un fondo pensione su cui accumulo dei soldi, quando andrò in pensione, andrò con la pensione pubblica, obbligatoria, cioè l'INPS e poi potrò anche chiedere un'ulteriore prestazione pensionistica al mio fondo pensione, quindi lui erogherà una rendita o rendite capitale che si affiancherà alla pensione INPS affinché il mio tenore di vita, una volta che smetterò di lavorare, sia un tenore di vita più che accettabile. Su questo punto una brevissima riflessione, in passato i nostri genitori non avevano questo problema perché soprattutto i dipendenti una volta che andavano in pensione si accorgevano che la prima pensione era molto simile all'ultimo stipendio. Ecco, questo non succederà più. Ahimè, tutti noi, dalla mia generazione in poi, in poi voglio dire più giovani, abbiamo una grande preoccupazione, quella di mantenere un livello dignitoso quando andremo in pensione. Perché dico questo? Perché la sola pensione INPS non sarà sufficiente a mantenere quel livello dignitoso, perché ci stanno prospettando, e basta andare sul sito dell'INPS a osservare il proprio tasso di sostituzione, delle pensioni che saranno circa il 30, 40, 50% in meno rispetto all'ultimo stipendio. Chiudo la parentesi, per quanto riguarda i rischi, anche per quanto riguarda questo fondo pensione, è legato essenzialmente all'andamento dei mercati e degli strumenti in cui investe. Bene, ripiroghiamo un attimo a questo punto quello che ci siamo raccontati. Allora, abbiamo parlato di gestione del proprio denaro, non solo di accumulo, ma di poterlo gestire. E per farlo, la pianificazione, abbiamo detto, è il metodo che ci permette di investire con oculatezza. Secondo passaggio, abbiamo guardato un po' questa pianificazione, questo metodo, che cosa consiste? Beh, il primo passaggio è fermarsi e individuare con, attenzione, le vere nostre esigenze, con occhio lungimirante. Poi abbiamo detto, un altro passaggio, una volta individuato le nostre esigenze, è trasformare queste singole esigenze in obiettivi finanziari e cioè accostare un importo che si vuole raggiungere per realizzare questo nostro sogno, per renderlo tangibile e individuare le soluzioni migliori per raggiungerlo. Altro passaggio importante che abbiamo fatto è l'orizzonte temporale e il profilo di rischio. Sono due elementi fondamentali che ci permettono poi di scegliere correttamente lo strumento migliore per raggiungere i miei obiettivi. E infine abbiamo visto, abbiamo fatto un rapido escursus dei principali strumenti a disposizione per i nostri investimenti, abbiamo parlato di azioni, obbligazioni, fondi, fondi di fondi e anche fondi di pensione. E queste sono alcune delle soluzioni che possiamo utilizzare sempre in ottica di diversificazione. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro webinar dedicato alla pianificazione finanziaria, alla cura dei nostri soldi. Io vi ringrazio per l'attenzione, se non l'avete ancora fatto magari date uno sguardo alle altre iniziative di formazione che proponiamo. Questo nostro incontro pomeridiano, questo nostro video, sarà presto disponibile sempre nell'area della formazione di Finic. Grazie ancora e alla prossima!